Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per l'invito a questo evento. Sono Iana Strioli, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale di Ricerca. Sono qua presenti con me referenti scientifici dell'Università di Firenze, professor Maurizio Beccucci e Marilena Ricci. Per l'Opeficio delle Pietre Dure il referente è stato il dottor Giancarlo Lanterna, che al suo pensionamento è successo a lui e il dottor Simone Porcinai che non è potuto venire per motivi di salute. Allora questo progetto ha previsto l'assunzione di tre assegnisti e l'obiettivo principale un po' più ampio era quello di rafforzare le capacità di analisi del laboratorio del congiunto del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Opeficio delle Pietre Dure e tramite la formazione di questi giovani ricercatori mettere in condivisione sia la strumentazione di altissimo livello e di ultima generazione da banco e mobile che il relativo know-how. Gli obiettivi più specifici sono poi quello di introdurre la spettroscopia Raman all'interno della quotidianità dell'operatore culturale perché era una cosa che non era presente quindi abbiamo riempito in qualche modo una lacuna scientifica tramite questa strumentazione che veramente riesce a fornire una serie di informazioni molto importanti che sono funzionali poi agli interventi di restauro. Quindi abbiamo utilizzato lo strumento da banco che è in grado di fare anche mapping su dei piccoli oggetti o le sezioni, abbiamo esplorato le potenzialità di strumentazione portatile e abbiamo implementato la metodologia SERS. Qua è stato molto importante il contributo della Università di Firenze, Dipartimento di Chimica. Quindi darei parola a Antonina Ciaban perché questi tre assegnisti hanno avuto tre profili diversi. Il primo profilo era quello più focalizzato alla strumentazione, il secondo profilo ha previsto l'assunzione di una persona formata in restauro e il terzo profilo era quello più specifico di chimica analitica. Quindi Antonina. Grazie mille per l'invito per la presentazione. Sì, sono Antonina Ciaban e sono di Anosta dei Beni Culturali. Prima di accedere a questo progetto di formazione avevo acquisito la prima esperienza di ricerca di diagnostica non invasiva per cui già avevo ben presente quanto importante la tecnica della spettroscopia Raman e sapevo che c'è un grandissimo potenziale, non potevo non candidarmi. È un progetto che in realtà tra gli obiettivi aveva veramente l'acquisizione di competenze specifiche su questo metodo molto promettente. Devo dire che è stato un vantaggio indiscutibile effettuare questa formazione in collaborazione con un team di esperti multidisciplinari dell'Opificio delle Pietridure. È stato veramente importante imparare a creare una sequenza analitica in costante dialogo con le persone che si occupano delle aspetti storico-artistici e anche quelli dell'intervento del restauro. Allora io come anche altri miei colleghi effettivamente ho messo in atto subito le conoscenze che noi stavamo acquisendo per cui ci siamo occupati subito della ricerca impiegando la spettroscopia Raman insieme ad altri metodi. Io mi sono occupata più specificamente dello studio delle ricette delle vernici colorate come la meccatura è una tecnica molto particolare che trasforma visibilmente l'argento in oro e una vernice dorata. C'è una varietà enorme delle ricette e sono finora sono state studiate abbastanza poco per cui mi sono occupata principalmente di questo, sia di ricette storiche che di quelle moderne anche grazie alla collaborazione con l'Università di Firenze. Sono state pubblicate anche dei nostri risultati in riviste scientifiche. Mi sono anche occupata dello sviluppo della metodologia per il rilievo dei dettagli nascosti per lo studio delle afreschi scialbati. Ho partecipato quotidianamente nella diagnostica applicata di routine all'interno dell'opificio delle pietre dure, supporto all'intervento di restauro e diciamo il risultato di tutto questo sono le sette schede di diagnostica all'interno dell'opificio delle pietre dure sulle opere d'arte che sono state studiate e restaurate lì e sei pubblicazioni nelle riviste scientifiche del settore. Tra tutti i casi studio che abbiamo avuto volevamo evidenziare questo. È molto particolare perché noi abbiamo potuto imparare che il Raman utile non solo allo studio dei pigmenti inorganici, organici che normalmente troviamo nelle opere d'arte ma anche allo studio dei pigmenti di origine microbiologica. Abbiamo avuto questo caso studio del marmo contaminato dai batteri che hanno prodotto questa pigmentazione violacea. Il Raman è stato fondamentale a caratterizzare la struttura, la molecola chimica, probabilmente si trattava in questo caso di violacina. E diciamo che questa esperienza è stata arricchita anche di collaborazioni internazionali e noi abbiamo, noi siamo stati coinvolti nello sviluppo della nuova tecnica che ancora esiste solo come prototipo e si tratta di un fotoacoustic imaging, una tecnica ibrida che sfrutta le irradiazioni del laser per la produzione del segnale ultraacustico che poi viene rilevato. Questa tecnica speriamo che nel futuro sarà utilizzata per lo studio delle affresche nascosti, scialbati oppure dello studio del disegno preparatorio che si trova al di sotto dell'intonacchino. Grazie. Ok, buongiorno a tutti, io sono Diego Quintero Balvas, come aveva già spiegato la dottoressa Striova, il mio profilo era quello di restauratore, io di formazione sono restauratore ma anche di agnosta e quindi ho avuto l'opportunità di partecipare in questo progetto come restauratore. Diciamo che l'obiettivo di questo profilo era quello di scegliere i materiali e gli oggetti per testare le metodologie che avevamo sviluppato con il progetto, ovviamente tecnologie Raman e preparare alcuni campioni o piovini con ricette tradizionali per fare la ricerca di mettere a punto queste metodologie. All'inizio del progetto mi è stato assegnato una linea di ricerca specifica in analisi dei manufatti tessili e ho collaborato con il lavoratore del restauro di razzi dell'opificio delle pietre dure che si trova a Palazzo Vecchio e quindi grazie a questa collaborazione abbiamo potuto sviluppare diverse metodologie di analisi di manufatti tessili e anche valutare un materiale innovativo eco-friendly per dare proprietà inifughe a alcuni dei materiali di conservazione che si utilizzano presso il laboratorio delle razzi ma che potrebbe essere anche utilizzato in altri contesti museali dove ci trovano questi tipi di materiali. Ovviamente ho collaborato con le mie colleghe per la preparazione dei campioni e dei provini per le diverse ricerche che sono state sviluppate e ho avuto il training in una serie di diverse tecniche analitiche che erano complementarie alla spettroscopia Raman, quindi FORCE, OCT e immagine multispettrale. Qua potete vedere alcuni dei risultati che sono stati ottenuti di questa ricerca per i settori tessili anche con la collaborazione del laboratorio del Departamento di Chimica dell'Università di Firenze dove abbiamo sviluppato metodologie di analisi Raman insieme a tecniche di analisi multivariata per ottenere una migliore caratterizzazione dei materiali. Quindi abbiamo potuto anche applicare queste metodologie a diversi manufatti come un arazzo di una collezione privata, alcuni tappeti persiani di un museo qua a Firenze anche e alcuni altri tappeti persiani di altre collezioni internazionali. All'interno dell'operatore culturale e quindi dell'opificio delle pietre dure ho anche partecipato alla diagnostica quotidiana di tutte le opere che sono restaurate presso l'opificio e come nel caso della mia collega Antonina Ciavan ho lavorato, partecipato a sette schede tecniche analizzando diversi manufatti sia dal XVI secolo fino al XIX secolo, di diverse istituzioni museali del territorio, quindi dalla Galleria degli Uffizi, da Palazzo Pitti, da alcuni musei in Pistoia e Prato. Quindi ho avuto l'opportunità di partecipare nella diagnostica di manufatti di diversa natura, di dipinti, metalli, tessuti eccetera. Quindi anche questo è stata una grande opportunità per me per riconoscere le diverse metodologie di analisi, come erano i processi di restauro e come la diagnostica in generale all'interno dell'opificio. Come risultati alla fine del progetto ho avuto l'opportunità di pubblicare dieci articoli in diverse riviste specializzate e anche scientifiche, qua vi mostro almeno uno degli esempi più importanti, quello studio di un disegno di Raffaello, conservato presso la Biblioteca Maruccelliana di Firenze. Ho fatto due presentazioni in due convegni e ho potuto seguire alcuni corsi di formazione specifici per la funzione data processing e analisi, tecnica analitica. Allora, velocemente presentiamo anche il terzo assegno con profilo chimico Silvia Innocenti che non è potuta essere presente perché è in maternità attualmente, però lavora sempre con noi e questo è con essa? Sei con noi Silvia? Probabilmente segue ma è un bambino piccolo, quindi per non perdere tempo lo presento velocemente per lei. Comunque ad ogni modo è un obiettivo guidato da Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze che è qua presente. Si trattava di sviluppo e validazione di metodi analitici, SERS, una tecnica sempre di spettroscopia Raman con un segnale aumentato tramite interazioni con le nanoparticelle metalliche. In specifico abbiamo esaminato i gel carichi di queste nanoparticelle e la loro capacità di aiutare nella individuazione di diverse lacche che sono notoriamente note per la difficoltà di riconoscimento. Abbiamo sviluppato due metodi, tutti e due sfruttano il gel di agar che può essere caricato o con etanolo o con etanolo e nanoparticelle di argento. La metodologia è molto efficace per il riconoscimento delle lacche in quanto è capace di isolare alcune molecole che possono essere successivamente analizzate tramite la spettroscopia Raman. Anche qua siamo riusciti a portare la sperimentazione eseguita in lavoratori sui provini ai casi reali di dipinti provenienti dalla Galleria degli Uffizi come la pala di Domenico Veneziano o di Lorenzetti. Infine l'ultima applicazione che riporto è anche molto interessante prevedeva l'utilizzo della spettroscopia portatile che impiega una tecnologia particolare con eccitazione tramite sei lunghezze d'onda diverse di laser e tramite sottrazione di fondo di fluorescenza che sono queste montagne che poi spesso coprono il segnale Raman e diciamo riusciamo a avere uno spettro più pulito. Non solo questo ma siamo anche riusciti a verificare che le misure possono essere effettuate attraverso vari contenitori come ad esempio in questo caso contenitore di vetro. Quindi abbiamo avuto questo vecchio campionario che conteneva varie varie sostanze, vari pigmenti e quindi noi siamo riusciti a riconoscere quello che c'è dentro senza doverlo estrarre. E qua vediamo lo strumento che lavora in situ presso la cappella Brancacci e abbiamo fatto costruire presso la nostra officina un alloggiamento meccanico in modo tale che si minimizzano le vibrazioni durante le acquisizioni. Quindi infine vorrei sottolineare, penso che i risultati parlano da sé, che le metodologie sviluppate e le competenze acquisite da lessenisti sono veramente trasportabili e applicabili in svariati contesti, quindi siamo in grado di analizzare vari tipi di materiali dai materiali testi, cartacei, dipinti, stato in bronzo eccetera e chiaramente quello che è necessario è che l'operatore ha in qualche modo accesso a questa strumentazione. Quindi vorrei specificare che la strumentazione è accessibile tramite l'infrastruttura nazionale Iris, si può sottomettere il progetto e che praticamente poi gli strumenti si spostano presso l'operatore, ma ovviamente siamo aperti anche per ulteriori collaborazioni. Vorrei anche sottolineare che io sono molto fiera che questi ragazzi hanno avuto una alta occupabilità perché attualmente sono con un contratto all'Istituto Nazionale di Ottica, Silvio e Antonina lavorano nell'ambito del progetto Hyperion e Diego Quintero Balbas è attivo nel progetto Diagnose, sempre un progetto della regione toscana e stiamo avendo veramente tanti risultati molto interessanti e andiamo avanti. Grazie mille.